ok ci siamo si è sminchiata la live che è già palle ok si è entrato scrivi in chat non stare su whatsapp un secondo che mi stacchiamo a mio padre non so se è entrato a tutti i nostri amici e un peggio anche se è entrato ecco ci siamo a tutti i nostri amici Grazie a tutti. 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 Non si fanno queste cose in live. No, va bene. Se è riferito a mio padre, non l'ho chiamato prima. Gio Cristo, ma ho iniziato a fare live. Comunque Regge, sto facendo la streaming a 720-60fps. E' buono, regge? A te regge sul telefono? O vedi a scatti? Allora, lotta tra business, andiamo a farlo subito. Sì, vabbè, ma c'è uno con la... Sì, vabbè, c'è uno con la fancube. Ho voluto prendere sto veicolo perché ho preso la carta... C'erano gli sconti e chi la prendeva davano anche qualche soldo in più. Mi sono voluto prendere sto roba perché è troppo fregno. Cioè, come fai a non comprarlo? Sì, costa un botto. Però velge, è cribio. Allora, io direi di avviare. Non fare caso al nome, però ci sta. All'organizzazione. Scrivimi se vuoi fare una... Se tipo ti porto una gara, un'attività, tipo una sopravvivenza, ti ci stanno i soldi doppi. Allora, un'attività, tipo 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 un ah si bella aspetta andiamo a girare la ruota che se mi esce la macchina vola tutto no 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 I got that other thing. Hi there, this is Bryony from Alan's Roam Productions. I was, uh, I was told you might be interested in participating in our online TV streaming live entertainment experience arena war at the Mays Bank Arena. We're looking for high net worth individuals by workshops overlooking the action and participate in our live shows. If you like big vehicles, explosions, bright lights, meaningless fame, and all-out competition, arena war might be the thing for you. Find us online and join the fun. Spettatore, chi sarà mai? Scrivere, 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 così riconosco la gente. Ok. What the fuck? What the fuckie? What the fuck? Come on. Now. Now. Good luck. Hey, I'm busy. You're a good remind. You're a goodать scene for the time. Grazie a tutti. 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 Oh di... Mi senti? No... Grazie a tutti. Mi sentite a tutti. Grazie a tutti. facciamo un'attività... la radio... da fastidio... aspetta... che entra qualcuno... avvio... ... facciamo un po' di... facciamo un po' di... facciamo un po' di... che... 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 install... che... 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 E anche io mi annoio Comunque Adi a te lagga Cioè lagga la laiva Quanto ti gira? Ok Ok non ti lagga bene No perché Ho la 100mg Voglio vedere se funziona Tanto un po' di parkour tattico Ma vabbè Iniziamo eh Che mira di merda Ma che c'è il ritardo di uccisioni Che fa schifo Però Ma vedete questo qua Che mi deve portare le kill Mi piace più la prima persona O la terza Cioè come volete che gioco In prima Per te Matti Ok 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 Prima va bene va bene Ciao Grazie per essere venuto Matti se dopo devo cambiare gioco Dirmelo eh Se ti annoio Grazie per essere venuto 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 Ok 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 Grazie per essere venuto Ok Ah Ok Ok preso ma perchè le femmine devono sparare a voi? pochi lo dice un'altra persona ho preso il pompo quello freno automatico oh god oh god oh god ok io capi perché il mio compagno deve andare in giro e non sa giocare va bene scomparso il veicolo a caso vado che si può aprire tipo c'è si può entrare ho aumentato pure la mira prendi sto lanciarazzi se ti piacciono sto tipo di live zio dimmelo che così cerco di farle più spesso oh ca l'elicottero preso e passano morto però eh vabbè ma cosa come ho fatto fuori se l'ho distrutto io no 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 e questo ho beccato il modder perchè sta sparando attraverso le pareti zio ci stai? scrivi in chat scrivi in chat belci stai scrivi in chat ok perfetto oggi se ti chiedi perchè non sei venuta a scuola perchè sono venuta all'ospedale sono venuta a fare dei controlli porco boom strike eeeh bravo bel scoppialo questo zio comunque se ti stai a chiedere quanto dura sta partita credo 15 round dura un po' però da un botto di soldi dimmi se senti anche il volume a volto se ti potevo abbassarlo un po' se va bene si piccolo è detto giochiamo in prima persona giochiamo in prima persona dai ma non ho l'acqua crepa ok va bene il volume perfetto certamente metti in terza solo per lanciare le granate perchè se no non ho messo bruciando what the fuck ma perchè prendo fuoco si vabbè dio eeeh vabbè prendo fuoco la cacchio bro ma ti piacerebbe anche se tipo porto che ne so eeeh far cry far cry tipo new down 5 tipo inizia una nuova storia faccio faccio la campagna modello si modello sto ascoltando è a modalità modalità diverse tipo difficile prima facciamo facile poi difficile dopo esperto e cos'è del genere sotto c'è uno e quello che vuoi io ti sto chiedendo a te le cose che ti piacciono io ho molta roba che posso portare forest tantissime cose tu me lo dici magari faccio anche un sondaggio vedo cioè chi mi segue vedo che cavolo vuole fare che io faccia ma dai ma che sfiga ma dai ma che sfiga è stata fatta se arriviamo all'ondata come si chiama 15 100 mila dollari pieno decidi tu ah va bene posso portare anche per 3 e 5 il problema è che è difficile da da streamare perché c'è la grafica della madonna ho preso uno c'è la grafica capoia capoia no dai cavolo non capisco perché la zona dove c'è il divano rivaticato prende fuoco se ci spari non capisco perché primo lui di 13 kg 10 kg vabbò no no più usci ti sta piacere la minigun oh no non c'è munizioni si vabbò se vuoi scrivimi su whatsapp così non c'è ritardo che mi arriva nella chat si si a portagare si si a portagare che è anche figo il problema è scaricarlo dal rockstar club buon problema c'è poi con star factory quello per fare i video cioè se ci riesco qualcosa cerco di caricarlo poi vedo e da lì qualche giorno che gioco faccio un video lo carico dopo per adesso faccio live perché mi è più semplice cioè non non giusto ammette tutte le impostazioni a fare cose strane a fare cose strane a fare cose strane ma tu ma chi sei a vedere da telefono o da computer mi è sempre spam così non gu Grazie a tutti. Ah ok, da telefono. Meglio così vedo anche se è larga perché da telefono ovviamente è più... Aridaglie con le armi scariche! Niente, ce l'avrà pure lui! Non è crepano! Eh, da dietro. Scusa Bel se sto a fare un po' schifo però... Cioè, nelle ondate piuttosto che bisognerebbe stare dove sta il tipo qua il mio compagno. Magari provo anche a portare, che ne so... Live o video anche da telefono, tipo che ne so su Playerunk, no? No! Buono! Rolestar! Ce libro! Ora è più difficilka! Grazie a tutti Grazie a tutti Faccio i compiti Faccio tutti i compiti Dopo vedo Un po' di guide Su Share Factory Per vedere Un po' di effetti E cose varie Ah 10 round abbiamo vinto Ah non li sapevo 15 Vabbò buono 80.000 dollari Andiamo in free mode Aspetta un secondo Ego ego Comunque lo sto a vedere Frequentemente Cioè nella live sto Cioè dipingo Tutto a posto Quando tipo vedi Non puoi visualizzare la schermata Io lo vedo Cioè è tutto a posto Regge tutto Sto facendo Cioè sto a girare la live A 720p 60fps Non da manco problemi Perché come vedi Non scatta neanche Poi magari Nei giorni Tipo Gioco con la gente Faccio i raduni Faccio le cose Almeno è più Movimentata C'è uno con l'aereo Non si deve permettere Di volare Aspetta Guno C'è uno congetto Voleva Bastardo Congetto Cazzo è vero Ho metto i soldi Giusto Con questo ho messo bene Di soldi È bello 1.180.000 Anzi Aspetta Siccome ce l'abbiamo gratis Mi tolgo un attimo Ah Sono salito Sopra il coso Quindi Vabbò Dov'è quello Con l'aereo Si è buttato Ah no Sta ancora in volo Andiamolo a prendere Sta andando verso Forza Un cudo No Lei prende un laser Secondo me Comunque Ti gira bene Cioè Ma sta scattando Ok Facciamo così Chiamamolo Lester Mettiamo Chiudono un occhio E Pignano giù Un jet Why hello How you doing How can I help Bye 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 Dimmi che c'è il laser Non c'è il laser Non c'è il laser In modo che lo vado a prendere Madonna Ho pensato anche Aspetta Se è partito Un audio A caso Belfort Con due Ma c'è i comandi invertiti Che c'è da fare Di bello In sessione C'è uno Con l'elicottero Che mi sta sul culo Quindi lo andiamo a favore E nel mentre Facciamo Il caffiatore di test Che ci da 30.000 Sicurati Porco Devo andare indietro Questo collega Te lo do culo Sta Ciao Ciao Ben Questa sfida Uno Vabbò Che è Tre Livelli Più alto Di me Comunque Mi si era spento il motore Che c'è zì Che caga Che caga No ma non sta lì La polizia Qua si è a caso Vabbò Ma tu li vedi Sì o no Sì o no Vabbò Senti Mi sono stupato Questi qua non crepano Scendiamo Non me la sento Di atterrare Qua però Renavelle Atterraggio Tattico Cioè Guardate Dove stava Ok Preso Cacchio Mi spara Beh Non mi spararà Laser Che mi inizia A fumare Eh ma Si è un fraio Però Comunque Il laser È Straforte Per tipo Ste attività Veloci Vede Vicilla La gente Mira Del merda Che c'ho La sera Mi ha piazzato Pure Natalia Che ho distrutto La macchina davanti Sacco di melma Scoppiato Scoppiato L'altro Stai in autostrada Prendiamo Ma ti piacciono Anche Di poste Attività In free Mode Queste qua Normali Scrivi in chat Di Tela Live E' quella Davanti Ok No E' quella Davanti Porco due Qual'è Bello Sto stallo Mi è piaciuto Eh Mo crepi Bel Però Mo muori Che non Scoppia Quel Fraido Incredibile Non vuole Crepare Quello C'è Bo Poi perché M'hanno dato Tre stelle Per vendita Di fagioli Cos'ha Quanto Poi c'è Uno che Mi vuole Rompere Ne hai capito Bel che Hai sbagliato Persona Chi sa che Non l'ha capito Preso Si piccolo Guarda che sta Quittando Guardalo Non sta Quittando Preso Andiamo a fare L'ultimo Che Ci becchiamo I dollaroni No Mi sa che Uno sta Utilizzando Il cannone Orbitale Zii Guarda Dalla mappa C'è uno In base Operativa Boom E dai A sto punto Non cambia il gioco Zii Resto Su GTA Fa ste cose Ok Uno sta Porta Erano le Scorte Dello Stabilimento Non era Nella base Operativa Questo sta Vendendo Il carico No Babà Che Bastardata Questo sta Vendendo La Merce I documenti Quelli Contrafatti Oddio Quanto L'ostaco L'aereo No E noi Facciamo Un bordello Bell Succede Un Casino Qua Guarda Seppure Mi sono Nascosto A radar Però Non 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 C'è Lo vedo Lo stesso Perché Vedo I suoi Prodotti Dogfight Zio Ma sta Con Con Aero Sta Con Il dodo Credo Che Dogfight Devo Capire Se sta In Altissimo O Sta Abbasso Zitto Simeano Eccolo Madonna Questo Rossi Campotto Sì Nella Distrutta Madò Che Casino Quello Ma Stara Scelerando Ma Va A Prender Oppresso Il Mi Ara Quindi Muoviamoci Ad And A Prendere La Taglia Ah ma sta Sono Due Andiamo Largo Presi Tutti E Due No Zio Siamo A Fai Devasto Dammi La Taglia Gioca Sì Dai Settemila Dollari Sembra La vita Da Poveri Di Fanat Donno Solo Che Noi Siamo C'è Già Un Milione Passa Settemila Guarda Settemila 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 Sai qual è una cosa che non so fare E' atterrare con il laser sopra la magebank Non ci ho mai provato ad andare piano perché Oh Christian ha preso l'oppressor E' imbezio Ma c'è l'oppressor E' imbezio Chi è a terra Batto un po' Uuuu Almeno non mi ha pillato Ti ho rovinato l'azienda E' ben Guardalo che non lo sa usare manco quella moto Ma che fra Ma ci sta Ci sta Io abbiamo svinchiato più di forza un milione di dollari Questo starà arrabbiatissimo Guarda che mo' mi da richillare Che metto qua E mo' che fai bel? Eh ma quando ci fossero oppressor non mi da la mira automatica Oggi Questo starà in cazzato nero Meglio che Deposito subito i soldi perché se no Ma nemmeno ci riesco sicuro Mi spiace zio E' anche questo Il problema è che se li alla distruggo Devo pagare la cosa Eh volevi Volevi Si si spara spara Volevi Volevi Ti indico quante volte ti pare Beh non me ne sbatte Nulla Vedo non la tolgo la passiva Posso stare qua a fare guarda di sguardi Che bella la tua oppressor Peccato che non può sparare FUG Mi ha scritto Che cazzo Ti hai fatto bel? Non ti prende? In che senso non ti prende? Ma stai con Beh stai con la linea del telefono O con il wifi Yeah I'll get there as soon as I can 5 giga quindi che fai stacchi basta la risoluzione zi magari si va meglio non c'è l'opzione aspetta un attimo eh beh non so perchè non te lo può cambiare ho messo che puoi selezionare sia cioè dal 144 a 720 con 60 fps iniziale evento che cosa ma guarda bello mi fa fare la sfida eppure ci sto sto anche a 144 c'è a 140 miglia e in che senso zi puoi selezionare tutti i tipi di risoluzione da 144p fino a 720 con 60 frame rate non so perchè non devo cambiare ah perchè sono in passiva zi vabbè dai sei staccato ma stacco la live ci vediamo domani ok e bobo a tutti quelli che hanno visto sta live che vedranno magari bella abbiamo fatto un botto di cose dai io spengo ciao 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 ciao